La struttura comunale per funzionare deve avere tre requisiti, esattamente un'ottima e specializzata amministrazione, un'ottima organizzazione operativa, degli ottimi amministratori che quantomeno abbiano, oltre a prendere lo stipendio, un amore per la città per cui lavorano. Questo deve essere il sindaco di Palermo, un ottimo amministratore. Noi del movimento ci impegniamo e lo giuriamo a fare le seguenti modifiche, semplificare la macchina burocratica, snellire le procedure, ridurre i vincoli amministrativi per consentire in tempi rapidi l'avviamento di nuove imprese, eliminare le auto blu, ce ne sono centonove, probabilmente ne lasceremo se sarò sindaco di Palermo 4-5 per momenti istituzionali, libereremo tutte quelle poltrone occupate da persone inefficienti e incapaci, aboliremo i premi di produzione per coloro i quali non raggiungono gli obiettivi, mentre tuttora anche se non raggiungono gli obiettivi vengono dati i premi di produzione, è uno scandalo. Mi impegnerò personalmente affinché aumenti la partecipazione dei giovani e delle donne, che sono la vita di una città, la vita della famiglia. Ridurremo il numero degli assessori, personalmente rinunzierò al mio compenso, ma già è ufficiale nelle mie conferenze che ho fatto, al mio compenso di sindaco a favore del sociale. Creeremo un assessorato unico, non l'avete mai sentito dire, un assessore alle lungaggini. È bellissimo. Incaricato di controllare perché tutte le richieste di licenze non vengono date in tempi utili, entro i 30 o 60 giorni. Noi forse li possiamo portare a 7 giorni. Sarà un assessore importante.